Salve, mi saluto da Napoli, sono Caterina e io sostengo azienda Skyward Community sperando in un futuro migliore come voi tutti che siete interessati. Allora, sono Katuna Toshvili con le qualifiche dell'investore leader della società Skyward Community. Sono mamma di tre bambini e di cui sono due studenti abbastanza affermati e che è veramente una grandissima gioia per una mamma emigrata. Sono emigrata da tre anni e svolgo tutte le attività a distanza dal mio posto di lavoro online. Allora, ho esperienza di lavoro in strutture statali, di esperienza nella comunicazione e nelle relazioni in ambito medico, ho anche 18 anni di gestione di imprese private e di esperienza imprenditoriale nel settore delle vendite e dei servizi. Sono uno specialista certificato di lingua italiana A2. Allora, avendo esperienza di comunicazione, mi ha aiutato a creare un gruppo dirigente della community Skyward che è sviluppato, si è sviluppato in Francia, Giorgio, Polonia, Spagna, Italia e Italia. Con l'aiuto del mio team in soli due anni sono stati investiti oltre 13.000 dollari e gli investimenti fino a oggi stanno continuando e tutto è successo grazie alla comunicazione. Allo stesso tempo, in questa fase di suo sviluppo, client ha offerto programmi di formazione certificati, attualmente le specialità più richieste e altamente pagate in cui il mio team è attivamente coinvolto. Puoi immaginare che prima del 2014 persone non stavano investendo in nulla, c'era solo un'idea e in grande desinteressato il lavoro del creatore di questo progetto. E ora ti presentiamo Skyward Community, opportunità esperte commerciali. Il progetto di cui parleremo oggi è di proprietà del signor Antonio Unitsky con una storia di sviluppo 40 anni. La proprietà intellettuale del suo progetto è stimata in 400 miliardi di dollari ed è dopo 40 anni di sviluppo che dal 2014 è diventata una grande azienda che oggi ha le migliori offerte del mercato. Lo stesso Anatoly Unitsky ha già 73 anni ed è sicuro al 1000% che tutto questo si realizzerà nel corso sua vita e lui non ha rifiutato di realizzare questo progetto anche quando la sua vita era in pericolo. C'è una domanda, sì? Che cos'è Skyward? Skyward è un trasporto che si muove su rotai ad alta resistenza. Il progetto presenta una serie di vantaggi che distinguono Skyward da altri modi di trasporto. La struttura delle linee Skyward si trova su supporti che occupano poco spazio sulla zera e non influenzano l'ecosistema. e la sua bellezza e comodità anche visibile abbastanza se comunque anche ogni persona, ogni investor di questa azienda può sentire lo stesso questo comfort che ci offre Skyward. I paci nitrici e foreste rimangono idrate e il trasporto Skyward è controllato da un autopilota e ciò riduce il numero di potenziali incidenti. Esatto, si muove sulla diversa linea di stringa e l'aerodinamica del trasporto Skyward consente di raggiornare velocità, raggiungere velocità fino a 500 km in ora. Anche la costruzione della costruzione della costruzione di linea Skyward richiede meno denaro rispetto alla costruzione di qualsiasi altro trasporto. guardate la sua comodità e bellezza e diversi condizioni idrici possiamo costruire linea di stringa che costa meno 20-25 volte. Allora, sappiamo che strade sono congestionate da auto che non la loro missione possono causare inquinamento e molto malattie. Purtroppo ci sono anche paesi che dovranno mettere sulla sicurezza perché la mancanza di sicurezza è la causa di molti incidenti che ci trovano vicino al trasporto Skyward. Negli anni 70 esistevano questi problemi di inquinamento e sicurezza. Nel 1906 si chiamava nato di Lumecki, scienziato, inventore, progettista in navi volati, presentò il suo primo articolo scientifico dopo 5 anni di ricerca sull'atmosfera. I risultati erano incredibili, incredibilmente gravi. Già all'epoca lo studio dimostrò che in 5 anni l'atmosfera è stata molto inquinata e continuare così per decenni avrebbe esposto la popolazione a molte malattie. che è successo purtroppo adesso, la situazione esiste, mezzo al Covid e mezzo a altre malattie che già abbiamo superato. La circolazione ha causato problemi in strada, mancanza di sicurezza, dispendio di energia colossale. Allora, guardiamo il nostro trasporto per oggi, la sua opportunità e capacità può raggiungere la velocità a 500 km per un'ora, capace di spostare da 4 fino a 24 persone e produttività fino a 500.000 passeggeri al giorno. Questo è incredibilmente una grandissima gioia per noi tutti, quindi possiamo aiutare le persone che servono a operare urgentemente. La posta come può lavorare, sì, possiamo inviare, spedire tante cose nella nostra vita, aiuto con questo trasporto. Ci sono molti tipi di trasporto Skyway ad alta velocità per i vari servizi, allora, l'unibus, l'unibus, pirotaia, capacità fino a 28 persone, in articolati 160 persone, che è bello, e produttività fino a 50.000 passeggeri al giorno. Potete immaginare come funziona? Allora, anche l'unibus che può spostare insieme da 6 fino a 8 persone, con la sua produttività al giorno presenta anche 50.000 passeggeri. Oh, che bene, l'unibus, velocità a 80 chilometri per un'ora e la produttività a 200.000 tonnelli per prodotti per costruire le case e anche togliere rifiuti dove costruiscono molte cose. L'unibus, l'unibus e tutto è questo, è una grandissima gioia, quindi esiste già questa possibilità per salvare la nostra pianeta blu, veramente, per i propri interessi e propri obiettivi l'umanità ha tanneggiato la natura e i paesaggi, ed è qui un'altra possibilità per salvare la natura. Allora, ogni partner della società Skyward Community è in una posizione redditizia. Qui è possibile firmare un processore e anche ricevere entrate aggiuntive dal programma di partnership di cui parleremo in un incontro specializzato per gli interessati. Il vantaggio e il fascino della nostra azienda sta nel fatto che una forte unione di persone con obiettivi valori rappresentati di oltre 200 paesi sono attivamente coinvolti in questo progetto per ottenere un reale benessere finanziario che è già diventato un processo irreversibile e di cui parlano i progetti già realizzati, pianificati e firmati. Abbiamo i progetti di linee delle città ecologiche. C'è anche un sito di uneschi.engineer che dal tempo di creazione di creare questo progetto a fine di oggi è possibile trovare tutti i certificati e permessi che è già fatto, che è il duro lavoro di Ado Ioneschi a fine di oggi, una persona che nasce una volta per tre anni per salvare la nostra pianeta. Io ho una felicità allora a presentarvi questo progetto. Allora, il nostro profitto è, quando entri nella nostra azienda, stai registrando, rapidamente avrai la scena dove ti trovi in tutte e due condizioni e i diritti rispetto a con giudizia europea e i tuoi profitti puoi trovare anche sulla vostra pagina propria e tutte le informazioni che ci mancheranno a fine di questa presentazione. Allora, il nostro profitto è, tirate i dividenti, anche guadagni da programma di partner, ereditarietà, disposizione sulla restituzione del denaro, diventa segretario di tecnologie, che partecipa a un progetto ambientale ampio e globale per salvare il nostro pianeta blu, passi alla storia, come finanziarò poi il capital per una vita spensierata, hai la possibilità di raggiungere Dubai, attestato di formazione in specialità impegnativa e altamente retribuite, il valore nominale del tuo acquisto è direttamente proporzionale al numero delle tue azioni. Allora, potete immaginare che personalmente è stata una grande gioia rendermi conto che aver comprato 120.000 dollari, 3 soli 1.000 dollari, cosa che non avrei potuto fare nella vita reale. Cosa dovrei fare per guadagnare questa cifra o in quanti anni farmiare così tanto? Incredibile. Per me che l'azienda Skyward Community è diventata, nel senso, è il supporto della mia vita. e durante due anni, dopo registrazione, io come un leader stavo facendo al mese abbastanza che mi ha dato una possibilità a comprare molte azioni, aggiungere e accumulare di più e di più. Per favore, se c'è qualcuno che avrà le domande, potete scrivere e vi rispondo. Allora, la cosa che è importante per te, che mi senti, è importante che hai un prodotto reale che puoi visitare, toccare e sentire la sua velocità e comodità per te stesso. Non ha bisogno di essere paragonato a nessun'altra azienda. Questo è l'unico progetto ecologico globale che ci offre molte opportunità interessanti. Ecotecnopark è stato realizzato, allora anche in Belarussia, nella città di Marina Gorka e negli Emirati Arabi Uniti, in Italia, nella città Shaza, nel centro di innovazione attorno all'Università americana. Dove è già possibile ve li visitarli? Per me, personalmente, e per molti partner è diventato ancora più credibile in Italia sia tra i duecento paesi partner. Questi sono i progetti già realizzati che è possibile trovare. Allora, un po' parleremo ancora su questo trasporto e dopo vi dico da dove prendiamo i nostri benefici. penso che avete capito che questo progetto ha soddisfatto tutte le aspettative del signor Adolineschi che ha avuto l'idea di costruire città lineari dove serviva il trasporto Sky World e i nostri quotidiani e la natura saranno riservati questa è la nostra salute e sopravvivenza come immaginare la nostra chiaramente dove è stato realizzato questo progetto pilota quando è pulita l'atmosfera e potete trovare guarda l'atmosfera sempre è diverso dove è realizzato questo progetto l'atmosfera è più pulita è più comodo è più comodo e ora ti dico da dove prendiamo esattamente i nostri benefici allora il 32 per cento della quota del valore delle tecnologie viene messo in vendita sotto forma di azioni e con gli investimenti pubblici si effettua l'acquisizione di azioni e noi diventare proprietari di tecnologie innovative la società Sky World Community è stata registrata in Inglaterra in isole vergini come società europea nel 2014 per tanto i diritti del single co partner sono scritti e tutelate dalla normativa europea inoltre l'ordine di partecipazione e è innovato dal registro pubblico inglese al indirizzo indicato guardate che bel documento per la situazione della società Sky World le sue fasi di sviluppo sono state suddivise in 15 fasi ad oggi abbiamo già completato la quattordicesima fase del suo sviluppo e siamo prossimi alla quindicesima fase da quest'anno la società Sky World Community è stata introdotta con il nome cambiato tecnologia delle stringhe UNESCO e sulla quattro fungiche di sviluppo e dopo il completamento della quattro fungiche si sta già spostando sul mercato mondiale e stiamo avvicinando alla maturazione dei dividenti Allora, i nostri azioni partono da 250 dollari, però è efficace. Grazie. 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 Ecco qui, queste sono offerte specializzate che è possibile fare per i nostri figli e per i nostri nipoti, per il loro futuro. E persone che stanno utilizzando questa possibilità, pensate che hanno creato una vita spensierata per i loro figli. Anch'io per i miei figli ho fatto molti investimenti e con una grande gioia vi presento questo progetto. Quindi tutto è legalmente, rispetto con giudizia europea che potete possedere e accumulare per il vostro futuro. Allora, se avete le domande vi prego scrivere e vi rispondo. Questa era la società Unesky Street Technology con le sue offerte e opportunità. E io sono stato attratto dalla qualifica di rivestore di questa società. Vorrei ringraziarvi per l'attenzione e ancora a guardare di nuovo tutte le foto di nostra linea stringa che è una bellezza che è una bellezza che risponde ai tutti i bisogni che abbiamo per oggi. Diciamo che da costruire è molto semplice e i suoi costi sono meno di 20-25 volte. E costruire questo trasporto sul mondo cambia la nostra vita e garantisce miglioramento per tutte le parti. Per caso di avere le domande potete scrivere qui o potete trovare anche altri collegamenti. dove potete trovare le risposte giuste che vi interessano e per prima possibilità viaggiare con la macchina di Skyworld Community e sentire la sua velocità e comodità per te stesso. Allora gente, ti ringrazio per l'attenzione e auguro lunga vita e salute. Speriamo che con questa meravigliosa vita la nostra vita migliorerà e piano piano diventerà un ciartino di Erden, diciamo. Sicuramente solo una persona che sta creando questo unico progetto da solo non può fare niente, però noi ci siamo già tanti e possiamo fare una bella cosa e tante belle cose per i tutti. Allora, questa era la società Unitskistic Technology con le sue offerte e opportunità e sono stato attratto dalla qualificazione di questa società come vi ho detto già. Grazie per l'attenzione e saluto ancora da Napoli. Grazie. Grazie. Grazie.